Hashtag lavoro per Leonardo Grottagli è lo slogan che dà l'input alla manifestazione dei lavoratori per la salvaguardia del lavoro e per il futuro del sito produttivo, con un sit-in e conferenza stampa dinanzi allo stabilimento grottagliese. Questa vertenza, perché l'abbiamo chiamata da oggi vertenza, ha bisogno ovviamente della politica, la politica che almeno sullo stabilimento di Grottagli non deve girarsi d'altra parte come ha fatto per altri siti e per altre lavorazioni. Chiedono garanzie sul proprio futuro, risposte sulla gestione della situazione senza cassa integrazione o ammortizzatori sociali alternativi. Questa è un'avvertenza che non può che vedere unito tutto il territorio, perché qui c'è tecnologia, qui c'è sviluppo, qui c'è la possibilità di esercitare un nuovo modo di fare impresa sul territorio. È un'avvertenza abbastanza anomala per quello che ci riguarda, perché questo è un asset che era appena sbocciato 14 anni fa, quindi non ha i crismi della monocultura, anzi questo andava esattamente nella direzione opposta, mirava a dare nuove opportunità di lavoro al territorio, quindi è evidente che c'è il massimo dell'attenzione, perché qui si tratta di creare un nuovo sviluppo. La priorità è sempre il lavoro, dicono, inteso come progettualità e certezza che garantiscano carichi produttivi aggiuntivi al Boeing 787. Noi siamo qui oggi per chiedere all'azienda il lavoro, noi vogliamo lavorare, abbiamo bisogno di lavorare, e la nostra professionalità, maturata in 15 anni di esperienza su un progetto nuovo, tecnicamente avanzatissimo, non può essere svenduta in questo modo.